Aumentano a 201 quest'anno le località rivierasche che assieme a 81 porti turistici potranno freggiarsi della bandiera blu 2021, il riconoscimento della ONG internazionale FII. Per questa 35esima edizione ci sono quindi 6 comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15, mentre 9 comuni non sono stati confermati. L'elenco annunciato durante una conferenza via web con i sindaci vincitori vede 3 comuni abruzzesi, Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro, con la regione Abruzzo che sale dunque a quota 13. Gli 81 approdi premiati, spiega la FII, dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Sul podio si conferma prima la Liguria, sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la campagna con 19 bandiere, con un nuovo ingresso, ma anche un'uscita, che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana, che ottiene 17 vestilli blu, con tre uscite a pari merito con la Puglia, che guadagna due bandiere, tre nuovi ingressi e un'uscita. Sono 416 in totale quest'anno, 407 nel 2020, le spiagge con mare cristallino, che rispondono a circa il 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la FII, aggiungendo che le bandiere sui laghi scendono a 16 con due uscite. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri imperativi e guida, fra cui, oltre mare, risultato eccellente negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo sigillo di qualità assegnato da una giuria nazionale, di cui fanno parte anche i ministeri della transizione ecologica, delle politiche agricole e del turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi di utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica giornata, educazione ambientale. L'impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l'attenzione ai servizi, unite al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei comuni Bandiera Blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento storico. Così il presidente della FE Italia, Claudio Mazza, nel rilevare l'aumento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità, ma molti di più sono però quei comuni che hanno scelto di intraprendere il percorso e che affianchiamo nella loro crescita, ha aggiunto in occasione di un incontro online con i sindaci dei comuni che hanno ottenuto il vestillo blu. Come è stato per l'anno passato, quando i comuni riveraschi italiani, Bandiera Blu, hanno ben saputo rispondere alle nuove e sconosciute sfide lanciate dal Covid. Garantendo una gestione della stagione estiva efficiente e in sicurezza, siamo convinti, conclude Mazza, che per il 2021 il turismo italiano saprà fare da traino alla ripresa dell'intero paese.